E' apparso piuttosto confuso e probabilmente con gravi patologie mentali. Il 25enne Grazio Pizzardi, arrestato dai poliziotti del commissariato con l'accusa di aver scippato una donna nei pressi del cimitero monumentale. Il giovane è stato bloccato dopo pochi minuti da un agente libero dal servizio che si è accorto di quanto stava accadendo. E' stato fermato mentre aveva ancora la borsa in mano, difeso dall'avvocato Salvo Macri. Sabato si è presentato davanti al giudice Tiziana Landoni, avrebbe dato spiegazioni piuttosto vaghe, sostenendo di non ricordare nulla il pubblico ministero, Sonia Tramontana, ha chiesto la custodia cautelare in carcere, alla fine autorizzata dal magistrato. La difesa però ha ottenuto l'autorizzazione ad una perizia psichiatrica con l'ammissione al giudizio abbreviato. In aula si tornerà a fine gennaio. Il legale cercherà di provare la probabile assenza della capacità di intendere e di volere del giovane che sarebbe affetto da gravi patologie. I PM della procura e i poliziotti non escludono comunque che possa essere dietro ad altri scippi subiti da anziane donne negli ultimi giorni. Le indagini infatti sono ancora aperte.